Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde promuove il Jobs Act ma avverte che il provvedimento appena approvato dal governo ha bisogno di essere accompagnato da un taglio delle tasse sul lavoro se si vuole che sia davvero efficace contro la disoccupazione. Il Jobs Act ha bisogno di essere completato con misure finalizzate ad abbassare le aliquote fiscali marginali, il cosiddetto cuneo fiscale, che scoraggiano gli investimenti in lavoro e capitali. Nonostante i recenti sforzi, ha infatti osservato l'ex ministro francese dell'economia durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi, il carico fiscale sul lavoro in Italia rimane ben oltre la media oxe e riportarlo a livello della media europea significherebbe abbassare la disoccupazione giovanile di 4-8 punti percentuali, cioè da 60.000 a 130.000 giovani che tornerebbero a lavorare. Il suggerimento del numero uno del Fondo Monetario è però anche quello di accelerare con la riforma della giustizia. Una delle cause maggiori della debolezza dell'ambiente lavorativo italiano, ha infatti osservato ricordando una sua esperienza nella veste allora di avvocato internazionale, è la lunghezza dei processi. L'ultima riforma invocata dalla Gard riguarda il settore bancario. Ci vogliono regimi per i casi di insolvenza per aiutare imprese e famiglie a ripianare i loro bilanci. Lo stesso è vero anche per le banche. I tassi di cancellazione dei debiti, a concluso, devono essere significativamente incrementati per riportare il rapporto dei crediti inesigibili ai livelli pre-crisi.